Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Chris75 come vi avevo promesso andiamo a fare la spesa col mio carrello ed eccolo qui ragazze, ve lo presento vedete, Chris è, ma chi, parcheggiato perché ha il suo parcheggio privato a costo zero, vedete, adesso lo prendo e andiamo a fare la spesa, vedete, tic tic, lo prendo ci appoggio la mia borsa con all'interno le borse penseranno che sono una pazza a registrare anche per strada se mi vede qualcuno pensa che sono una matta vedete, ci stiamo avviando vedete, il mio mezzo, non sono neanche brava a comandare un carrello, figuriamoci una macchina, gente vedete, ci stiamo avviando le macchine che passano sicuramente diranno questa cosa fa con il telefono sicure alla mia sinistra potete notare il mercatino dell'usato che è il Delta Studio dove fanno massaggi di ogni genere devo chiedergli se mi pagano, gli faccio la pubblicità e ora stiamo per arrivare vedete, io in un attimo ci arrivo al carrefour mi credo a tutti avere questa fortuna vedete, toc ve lo mostro nella sua bellezza stiamo arrivando nel parcheggio giustamente a basso e quando sono dentro se riesco filmo di nuovo gente non ve lo prometto perché non so se avrò vergogna o no ora che arrivo vi abbasso che arriva gente superata con la persona non vedete ci vediamo dopo non parlavo perché c'avevo gente vicino e io c'ho vergogna cerchiamo questi biscotti che vuole Matteo perché stasera Matteo vorrebbe fare cena con il latte con i biscotti non mi dispiace neanche a me come cena però non li vedo vuole gli orocioc ma mi sa che saranno da un'altra parte allora tante cose ah il caffè devo prendermi le cialde eccole qua stavolta prendiamo queste che sono in offerta e queste che sono in offerta qua c'è tutto il mio scaffale delle tisane c'è tantissimi tipi ci sono anche quelle in capsula perché ha la macchinetta ed eccoli qua questi qui sono questi sono buoni eccolo qua te ne prendo due di ricambi adesso volevo farvelo proprio vedere eccolo qua così almeno lo vedete costa 24,90 euro qui alla Carrefour invece ecco questo a me non piace questo qua che strizza così questo è e le ricariche sono in offerta 3,99 euro questo è lo scopino che avevo preso che vi ho detto che mi trovo bene 3,99 euro qui c'è l'angolo da me preferito e per farvi venire ancora un po' di nausea vi ho dondolato da tutte le parti ho dovuto metterlo via che era arrivata una signora lo svelto questi qua in ricarica a 2,09 euro e 10 punti questo è un altro angolo da me molto amato questi sono tutti gli ammorbidenti come andiamo a questo posto ognuno ha i suoi amori nella vita ah questi sono vedete quei prodotti che rimangono fermi per tutto l'anno qui c'è tutti i detersivi vedi qui gli altri ed eccoci usciti dal supermercato scattate che sistemo un po' la luce ecco non ho potuto riprendere perché c'era troppa gente adesso faremo una curva e vi spengo di nuovo ciao che oggi ora posso tirarvi di nuovo fuori adesso siamo di nuovo da soli vedete il nostro carrello Chris Matti che se ne va adesso è mia cinga a tornare a casa da buona disagiata avevo promesso che facevo questo video poi vi dirò come è venuto vediamo come viene portate pazienza se le immagini sono tutti ballerine ma devo tenere con una mano il carrello e con l'altro il telefono e poi ci sentiamo in casa per i saluti e finalmente sono arrivata a casa ho appoggiato già le borse devo essere più sincera mi sento più amicata adesso non so come sarà venuto questo video qui ho tutte le cosine che ho comprato adesso ve le faccio vedere e devo tenerlo in mano il telefono perché giustamente se carichi il video in una determinata maniera se lo registro in una maniera non puoi più cambiare la posizione comunque ho comprato i cereali io ora c'ho questa sera per far cena chiamati vuole il latte con i cereali il latte è il mio un pochettino di affettati allora questo qui lo snello il prosciutto cotto l'arrosto di pollo la bresaola il prosciutto crudo il prosciutto cotto le erbette il salame e l'arrosto di tacchino poi ho preso ancora due gancetti da mettere sempre nell'antina come vi avevo ve lo faccio vedere vedete le ho messi uno qui e uno qua dove ci vado a mettere uno e due vedete poi cosa ho preso i cereali che non ne aveva prato più le cialde che mi avete visto che le prendevo ho preso questi due tipi sia quelle della proprio della Carrefour che sono buone e queste qua che vabbè è buonissimo poi mi sono preso anche questi biscottini sempre per stasera per cena biscottini del gatto poi ho preso ho provato questi che sono quelli nuovi sono quelli al cotone poi vi dirò come mi trovo questi biscottini biscottini due bottiglie d'acqua ragazze la carta stavolta ho preso questa quella della Foxy questa qua carta faglia lo svelto perché quel detersivo là che vi ho detto dei piatti fa proprio pipip e non ve lo dico due bottiglie di candeggina che devo poi almeno ce l'ho questa ecco io questa prendo per fare il lavaggio della due litri vedete sono due litri che uso per la lavatrice e anche per il lavello e anche questa borsa è finita poi ho preso lamponi questi biscottini che sono una vera bontà quelli della terra d'Italia torcetti della serra insalata rattugina rucola i due ricambi per il rotomop che ho fatto il video poi ve lo caricherò non so se vedrete prima il video della spesa se vedrete prima vedremo ne ho presi due perché erano in offerta un quaderno per mati per scuola perché vi serve carotine mirtilli sacchetti profumati alla lavanda sacchetti per l'umido pane un altro sacchetti per l'umido un altro sacchettino del pane che scomodo fare video così poi anche il colore è venuto più scuro comunque niente allora questo video è finito prima adesso di pubblicarlo lo guardo se è abbastanza decente perché mi sa che vi ho sballontolato comunque lo carico lo stesso tanto per farvi fare due risate così almeno vi rendete conto di quanto sono matta e vi auguro una buona giornata una buona serata in base a quando lo guardate ciao a tutti se vi è piaciuto il video pollice all'insù se non vi è piaciuto pollice all'ingiù se non siete ancora iscritti iscrivetevi e un bacio grosso grosso ciao a tutti ciao